Ragazzi miei belli, buongiorno a tutti. Questa sera giocherà l'Italia, scenderà in campo contro l'Inghilterra per le qualificazioni di Euro 24. E dovremmo parlare di calcio, della probabile formazione, di quello che ha deciso Spalletti, di tutto quello che... Ma purtroppo ci ritroviamo davanti a un episodio nuovamente in cui mi rendo conto che questo mondo non mi piace per niente più. Ma c'è, ma zero. Ieri sera un uomo di origini tunisine con un Kalashnikov in praticamente Place de la Rue, se non sbaglio, a Bruxelles, che cosa fa? Decide di sparare, decide di sparare a dei tifosi di calcio, no? In questo caso due ragazzi svedesi purtroppo sono venuti a mancare, sono morti, perché questo un giorno decide che si deve far saltare in aria, un giorno decide che deve mandare un video su Facebook rivendicando questo attentato, questa sorta di attentato e dando la paternità di questo attentato all'Isis, perché lui è nato per servire questa sua religione e morirà servendo questa sua religione. Partiamo dal presupposto che le religioni non dovrebbero essere mai di questo genere qui, non ci dovrebbero essere neanche... non dovrebbero essere neanche menzionate, ecco, questi tipi di comportamenti. Ragazzi, scusate, ma c'ho praticamente una mollica che ho mangiato prima. E non dovrebbero neanche essere menzionati questi tipi di comportamenti. Poi che cosa succede? Che questo qua, dopo aver sparato, ha la possibilità addirittura di avere il tempo, attenzione, di avere il tempo di dirigersi verso lo stadio dove stanno giocando Belgio-Svezia. Tra l'altro pieno di tifosi sia del Belgio, ovviamente, essendo a Bruxelles, e sia tifosi svedesi. Cioè, quindi questo ha avuto il tempo di dirigersi, dopo aver sparato pesantemente, ha avuto il tempo di fare tutto questo. Ma poi ci lamentiamo in Italia, no, delle nostre forze dell'ordine. Ma lì che caspita hanno fatto? Cioè, io non voglio giudicare le forze dell'ordine, per carità, perché un attentato è pur sempre un attentato e non si può prevedere. Però, cioè, questo è riuscito a dirigersi, a dirigersi verso lo stadio. Dove, dove hanno interrotto una partita giustamente, perché i giocatori sono stati assolutamente intelligenti in questo, dove hanno lasciato un popolo intero, perché una fetta grossissima di persone che sono andate a vedere la partita, migliaia di persone, all'interno di uno stadio per non so quante ore, col terrore, perché si sono fatti fottere da una persona sola. E chi è questo mandraghe? Una persona sola, fotte un intero esercito di forze armate. È strano. Poi quando si deve spostare un ministro, un qualcuno di importante, si attivano elicotteri, su nel cielo, si attiva questo, si attiva quell'altro, è per una cosa del genere. Ci facciamo intimidire per ore e ore da una persona sola. Sono schifata, sono schifata, ragazzi. Scusate per la voce, ma io sono ancora afona. Purtroppo qui in Sicilia l'umidità è tantissima ed evidentemente mi pesa tantissimo sulla gola. Poi vabbè, c'è stato caldissimo, sudato. Ieri ve l'ho detto, è utile ripetere queste cose. Detto questo, sono triste, amareggiata, perché il calcio è una passione fortissima. È una cosa che mi... Una delle cose della mia vita che mi rende viva, una delle cose che mi fa stare bene, una delle cose che faccio veramente con passione, seguo con passione, do informazioni con passione ovviamente sui miei canali social. Ma mi sto stancando semplicemente perché tra il calcio scommesse, che è di una tristezza infinita, per dei giocatori che veramente sono privilegiati, hanno soldi che gli escono pure dalle orecchie. E anche questo, cioè devono morire innocenti, che vanno a vedere la propria squadra del cuore, la nazionale. In questo caso, no, bisogna avere paura allora di andare in tutte le manifestazioni da oggi. Io non ci avrò mai paura. Io non sarò mai schiava di questi disgraziati terroristi. Se mi dovessi trovare in un posto dove fare... dove dovrebbero fare una cosa del genere, amen. Io sotto schiaffo da questi disgraziati. non ci starò mai. E non perché voglio fare la paladina della giustizia, eh. Perché questi disgraziati con la religione non hanno niente a che fare. Perché questi disgraziati con Dio, il mio Dio, il loro Dio, perché il Dio è uno. Non sono 50.000. Non hanno nulla a che fare. Ti possono dire, ah, la religione, Dio, Allah, no. No. Perché io non ho conosciuto i musulmani. Io non ho conosciuto i musulmani, che non si fanno saltare in aria e non ammazzano nessuno. E non è il messaggio che deve passare agli ignoranti questo. Non è il messaggio che deve passare agli ignoranti questo. Perché i musulmani, per bene, esistono. E non si fanno né saltare in aria, né rivendicano all'Isis, né fanno questioni di religione, né ammazzano le persone. Non è facile dare un freno a tutto questo. Io mi rendo conto. Non è facile da parte delle autorità, delle forze dell'ordine, andare a scovare tutto questo. Io lo so. Ma tante volte non conviene nemmeno. Forse è troppo dispendioso. Spendiamo i soldi per altre cagate. Europa. Spendiamo i soldi per altre cagate. Cara Europa. Intanto muoiono le persone, saltano le teste. La gente muore. La gente non c'è più. Quei due ragazzi svedesi, non ci sono più. Le forze dell'ordine dove cazzo erano? Dove erano? Dove erano in un momento così drammatico? In una piazza importante, oltretutto di Bruxelles. Non è che dici era in un vicolo. Dove sono i controlli? Perché deve morire la gente così? E che cazzo le paghiamo a fare le tasse? Noi in Italia come in Europa e come in un altro posto. Perdonate le brutte parole. Perdonate l'incazzatura. Ma sono veramente amareggiata. sono amareggiata da questo mondo di merda. Sono amareggiata da questo mondo infame. Sono amareggiata dalla cattiveria della gente. Sono amareggiata che ci sono persone nel mondo che pensano che Dio li porterà alla salvezza facendo, ammazzando le persone e facendosi saltare in aria. Ma come cazzo possono pensare una cosa simile? Come si fa? E io devo vivere, devo calpestare, devo respirare la stessa aria di queste persone. Devo calpestare la stessa terra di questa gente. Io non ce la posso fare. Vedi, se uno deve stare preoccupato, deve avere paura di andare a una manifestazione in cui l'aggregazione è la cosa principale, una persona deve avere paura che possa capitare una cosa simile. Ma dove siamo? Dove cazzo stiamo andando? Dove? Amici miei, che dirvi? Io oggi, sinceramente, di calcio eviterei di parlare perché mi sembra imbarazzante di parlare di calcio oggi. Stasera magari vi dirò le formazioni prima della partita, ne parleremo dopo la partita di quello che succederà magari. Ma ora, ora volevo sfogarmi su questa cosa perché veramente, sono veramente amareggiata e stufa dallo schifo, perché è tutta una questione di soldi e di religioni farlocche. Non veri, farlocche, perché quella non è una religione come si deve. No perché i musulmani non sono come si deve, perché quel tipo di atteggiamento non c'entra una mazza con una religione normale e sana. Questo è quello che voglio dire. Ragazzi, se siete d'accordo con quello che ho detto io, ovviamente condividete il video, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e invitate i vostri amici a iscriversi al canale e a cliccare sulla campanella perché poi vi arrivano le notifiche. Scusate ma faccio veramente fatica con le corde mie vocali a parlare oggi. Vi abbraccio forte come se fossi lì. Ricordatevi sempre che la vostra lucre vi vuole bene e sempre, sempre, sempre. Forse i popoli onesti, forse le persone oneste e forse la gente per bene che a questo mondo esiste e le religioni che ci danno anche conforto e coraggio che ci aiutano ma quelle serie, quelle per bene, non ste cagate che si fanno su un parantallaria ma che sono sti cose? Ragazzi scusate se a volte sproloqui o parlo in dialetto ma ci sta, ci sta, fa parte del mio essere. Buona giornata a tutti. buona giornata a tutti. Grazie.